Il C1, Cristian Maciocchi, il suo avversario a Lago Rosso per il team Invictus. E' la prima ripresa. Sempre le braccia, Cristian. Ricordate il lavoro nostro. Non c'è blu, non c'è blu. Non c'è blu. Non c'è blu. Sempre chiudi. Sempre chiudi. Sopra sotto. Non c'è blu. Non c'è blu. Sopra sotto. Sopra sotto. Sopra sotto. Non colpi simboli, Cristian. Sopra sotto. Sopra sotto. Sopra sotto. Sopra sotto. Sopra sotto. Metti quei colpi vitti che passano. stai blu. Sopra bene. Grazie. Fuori i secondi. Tempo. La seconda ripresa. Forza. Forza. Semplicità. Forza. Inattivo. Quello. Bravo. Rendice con questo testo. Bravo. Volevo un po' la. Volevo un po' la. Volevo un po' la. Stop. Volevo un po' la testa. Ricordate i disperazzi. Volevo caricare. Due detti. Guarda dietro. Bravo. Viriti. Bravo. Ancora. Credici. Ancora. Ancora. Sorra su. L'acqua però Cristiane. Dai allo strato. Vai ancora. Ancora. L'occhio rimetti però. L'occhio rimetti. Attività Cristiane. L'attività. Attività. Giamolo. 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 L'occhio a bene stilo. L'occhio a bene stilo. L'occhio a bene stilo. Prendi a sinistra. Prendi a sinistra. Vieni a sinistra. Bravo. Vieni a scontare. Bravo. Bravo. Vieni a bocca. Stop. 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 Le gobe. Le gobe. Cristiane. Regu. Sì. Vieni a spiegare. Cristiane. Fai. Presta. 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 Presta le go. Presta le go. Stop. Stop. Bravo. Tempo. Bravo. Bravo. Angolo nello. Angolo nello. Respira piano. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. A sei alzati. Sei. Recupera. Vai. Sette. Abbraccia. Otto. Guardami. Tempo. Cristiane. Vai. Cristiane. Verricacente. Stop. Stop. Cristiane. 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 Deciso. Non ti fa mettere sopra le testa. Stop. Forza. Più forte. Due. Tre. Più forte. Parti due. Parti due. Ancora. Cristiane. Ancora. Cristiane. Devi partire te. La devi chiudere così questa. Presta. Vai. Grazie. 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 Applausi. Grazie. 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 Andosso, 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 quello è tutto il tuo round, deve essere tutto così, sulle braccia, ancora Cristian, presto Cristian, non lo fa avanzare, prestate, forza Cristian, deciso però, non aspettare, Cristian, che tu ho detto le braccia, che tu ho detto le braccia, devi partire come sei partito, allora Cristian, fuggi lato, prestalo Cristian, va avanti Cristian, devi essere deciso, fuggi avanti, entra dritto, Cristian, deciso, dritto, dritto, porto i dritti, porto i dritti, porto i dritti, prestalo, Cristian, prestalo, Cristian, da dentro avanti, se fai indietro, perdi, piangereggio, stop, Cristian, prima, te devi fidate a me, se fai da solo, che c'è lato, vai, col lavoro, vedi che Cristian, vedi Cristian, se fai indietro, ora vanno la spacca, vanno, vai avanti, cacciocco, ora non si spacca, è finito un round, è finito il round,oma, è finito, volano I braccio, finita volete, finisci, Allora, va benissimo! Ricordatevi continuare! Cristian, voglio musica? Sbaglio il box, voglio il box! Allora Cristian! Passalo lì, passalo lì! Blocca così! E rimettilo subito! Adesso! Bravo! Cristian, se vai indietro fai il lavoro suo! Devi andare l'ultima! Bravo! Bravo! È la fine dell'incontro! Abbiamo il perdetto vince ai punti all'angolo rosso Lorenzo Chiai! Un applauso a Cristian Maciocchi! Grazie! 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 Grazie!